Siamo qui al Salone del Risparmio con Germano Lanzoni, attore del Milanese Imbruttito. Anche lui qui oggi per intervenire in uno dei panel. Cosa ne pensa del settore risparmio gestito? Io direi che è uno dei settori trend per eccellenza perché tengono a cuore il risparmio degli altri che chini sul fatturato, gli danno, gli forgono le possibilità di investire. La speranza è sempre di trovare un bel pacchetto di fondo che ti dà un 5 per cento senza rischio, così il cliente non ti rompe il cazzo e speriamo di trovarlo. Adesso il mercato rende poco, quali sono le soluzioni? Come farebbe il milanese imbruttito? Va a curma e non ci pensa, te ne vai via un weekendino, poi torni e la vita non è che può essere sempre al top, è un po' up and down, up and down. Grazie. Grazie a voi, mi raccomando, tanta fatturata e fatturato, ho detto al femminile perché nel frattempo qua la fee è di diverso, di livello. La seconda fee è fiducia in se stessi. Arrivederci, grazie.